Ola ragazzi, eccoci qua sul canale con un nuovo video, finalmente nuovo showcase perché il gioco è tornato in vita. Infatti dalle 4 più o meno di questa notte è tornato tutto regolare, ci hanno dato 800 crono da una parte, più 200 per l'aggiornamento, quindi 1000 crono totali, direi che possiamo ritenerci soddisfatti, e in più non ci hanno neanche azzerato le varie daily mission, di conseguenza ieri non avete loggato, nessun problema. A me è andata ancora meglio perché mi ero dimenticato di loggare martedì, ieri per forza di cose non ho loggato, stamattina pensavo di ripartire dal giorno 1 e invece no raga, è continuata anche la mia streak. In ogni caso, video di oggi, in pausa pranzo, quindi abbastanza rapido, showcase del Grigian. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, per chi ancora non fosse iscritto potete rimediare all'istante premendo sul tasto qua sotto, è gratis, attivando la campanella non vi perderete più nulla, quindi vi conviene farlo. Grazie a tutti quelli che lo faranno e detto ciò, vamonos! Eccoci qua, Jiren, Zenkai! Per il momento, come al solito, io l'ho portato a Zenkai 6, ma vediamolo a statistiche massime, dato che quelle ci mancavano dal kit di ieri. Abbiamo 1.558.000 di power level generale, molto bene, 2.07.000 di HP, 295.000 di strike attack, 252.000 di blast attack, 188.000 e 182.000 per le due difese. Altre cose interessanti che non vi avevo detto con il kit di ieri, c'era da tenere in considerazione anche questa cosa qua che già aveva lui nel kit, ma ora, dopo lo Zenkai, assuma ancora più valore. Ovvero, a ogni strike che tira, ci mettiamo un meno 10% per bucare le difese avversarie. Per 10 timer count, quando colpiamo, di conseguenza il tutto è staccabile, ogni strike che tiriamo, l'avversario riuscirà a tankare sempre meno. Dopodiché, altra cosa interessante, la ultimate non gli hanno dato un anti-endurance, ma anche questo bene o male già c'era. Sono massive explode damage, più 50% di danno da ultimate per 3 timer count dall'attivazione e infliggiamo a tutti gli avversari un meno 100% di health restoration per 40 count. Quindi, gli avversari con l'endurance rivivranno con un HP letteralmente. Non c'è nulla da aggiungere a quello che vi ho detto ieri. Per il resto, vediamo un po' il team, dove andrò a giocarlo. Team Universe Rep, praticamente, con 17 leaders lottato per prendersi le Z-Ability e darle a tutti quanti. E soprattutto abbiamo doppia bench HP sia Cabba che Bergamo. E poi, chiaramente, 13 per buffare del 50% lo strike attack e la strike defense dei personaggi rossi-verdi e 17 che è leader. Equip, tutti a vista? Andiamo in PvP, vediamo come rende questo grigio. Via! Cominciamo! Team Future Barra Godki più Hit o più semplicemente Powerful Opponent, visto che sono tutti cattivi. Ok. Incassiamocela. Perchè sento strano, raga? Sento basso il volume. Va bene, partiamo. Tu sei ok. Vai Grigian! Anti-cover! Perchè così poco danno di strike? What? Vai Grigian! Fammi vedere qualcosa di buono! Non lo so, raga. 150 dove? Va bene. Bel drop. Sbuttiamo 17. Non penso abbia già il rush, mia... Ma te te da dove te lo sei cacato fuori, frate? Ma hai tirato due special move, basta! Godo. Ok. E' un salto. Dritto per dritto? Vai Grigian! Vai Grigian! Beh, direi rasciamo. Non sta facendo danno, raga. Non lo so! Dove sono le percentuali e le statistiche che ho visto? Jiren! Ok, questo comunque è andato. Meno uno! Tapp, 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 tapp! Ok. Nice! Vediamo, raga. Lo shattiamo. Fammi vedere belle cose, Jiren! Grande! Vai Grigian! E GG! Raga, non lo so, parte lento, ma poi devo dire che funziona. Boh, proviamolo ancora un po'. Andiamo avanti! Team Android più Hittone, Sama! Ok. Va bene, facciamo così e peschiamoci nuove carte. Nice! Vai Jiren! Vai Grigian! Strana scelta, bro! Oh, cappa! Andiamo diretti di special move. E facciamo uno switch, raga. Ok. Nice, nice! Manca ancora troppo per Jiren, purtroppo. Ok, posso tirare una strike e l'alti. Ehi, è saltato fuori anche un drop. 2 milioni e 3. Boh, raga, no, no, non credo. Non credo. No, infatti. Va bene. Andiamo anche ad SM. Bravo, sono stato un babbo io, raga. A provare a buttare una verde così. Ok. Non puoi farmi un granché. No, neanche con questa. Nemmeno con l'alti, frate. 17, una muraglia. Nice! Vediamo di farlo fuori. Non torna hit, vero? Perfetto. Boh, il viola è andato. Finalmente! Uno in meno. Chill, chill, bro. Ok. Potevo anche non switchare. No, va bene, va bene, va bene così. Ok, ti fermo. Andiamo ad SM. M. Meno 4 per il grigio. Nice! Knocker dello speed, purtroppo, e si sente. No carder speed, e si sente, grigio. Vai, 17. Ok. No problem, bro. No problem, bro. Mai fregato malamente. Bravo. Bravo, 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 bravo. oddio hit, che si era caricato un altro timeskip nel frattempo, quindi meglio farlo fuori. E resta il blu. E resta il blu, easy. Vai, grigian! Una strike, ti prego! Grazie. Lento, raga, lento per il cardero speed. Per il resto, assolutamente un buon personaggio, ma il cardero speed che manca si fa sentire. Prossimo. Team hybrid! Ok. Io ci spero sempre che qualcuno mi attacchi, ma no. A media distanza non ci si attacca. Incassiamo, ragazzi, abbiamo Giren. Cosa stai? Ok. Va bene, andiamo così. Ok. Ok, anche lo step mi hai preso. Unespected. Incassiamo sul Giren. Roccia. Oh, nice, nice. Vanish subito. Blocchiamogli la combo. Optimus. Vamonos. Vamonos, vamonos! Dimmi che lo fai fuori. Ti do un bacio sulla bocca, Hit, se lo fai fuori. Mua! Sì, di lui. Mua, Hit! Ok. Stop, stop. Incassiamo tutto. Recuperiamo anche HP. grazie per l'SM. Facciamo così e facciamo così, raga. Che se entra Gohan sulla Blast, ci perdiamo l'Ultimate, non è una cosa simpatica. Meno due. Vai, Grigen! Allora, posso? No, non posso. Peccato. Sarebbe stato bello fargli fuori almeno la prima vita e poi tirarla a Ultimate. Ma no, ma dovrebbe recuperare un HP. Se tutto va come deve andare. No. Ok. Ok, Giren. Unexpected. Buttiamo Hit. Non lo so, c'ha delle cose che non funzionano come dovrebbero, probabilmente per immunità degli avversari. Ma non è una cosa carina, ecco. Ok. Sei una roccia, Giren. Sei una roccia, Giren. Fallo fuori a pugni. GG, prossimo e ultimo match. Ultimo match, così vi porto sto showcase e torno in negozio. Andiamo ad SM subito. Ciao, Gon. Metà HP. Così. A gratis. Vai, Grigen. Bravo, bella attesa. Blast? Mi blasti? Mi blasti. Perfetto. Ah, c'è che si recupera anche il Vanish con la verde. Ok, buttiamo Giren a tankare. Non può switchare su Gonbeast. Cioè può, ma non gli farebbe niente. Bene. Bene. Ok, c'è ancora l'anti-cover, quindi non mettiamo 17. Hai finito? Non hai finito. Non hai finito. Ok, stoppati, bro. Stoppati, grazie. Va bene. Vediamo di fargli fuori la prima vita. Oh, quasi. Sì, sì, sì. Per forza. Facciamogliela fuori. Facciamolo tornare ultra istintivo. 3 milioni e 8. Potevo anche fare un pochino di meno, forse. Magari l'ultimate non serviva. Ah, ho finito i miei anti-cover. Potevo andare di blu. Sarebbe stata una kill. Su quasi tutti. Ah, un lucky. Bel drop. Teniamo cheat. Volevo avvicinarmi un po' di più, in realtà. Buttiamo lui. Incassiamo. Ok. Va bene. Vai Grigian E mettiamola sta ultimate Mettiamolo un bel meno 100% Di health restoration A tutti quanti gli avversari Che non sono immuni Nice Meno 2 e resta la bestia Ok Tanca Jiren Tanca Jiren Si Nice Val Grigian Raga fa un botto Di malagon beast Ma proprio lo annienta Lo annulla totalmente Parliamone Jiren Zenkai Parliamone Come rende Secondo me Personaggio Assolutamente da promuovere Mi sarei aspettato Qualche danno in più Perché da quasi 300.000 di strike attack Con un più 150% di danno Sulla prima strike Non è che ho visto così tanto danno a conti fatti Però raga è un personaggio super 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 solido Sarà un po' per il team dove l'ho giocato Con MVP 17 più doppia bench HP Raga non lo buttano giù Non lo buttano giù Si recupera un botto da HP sia semplicemente andando in standby Tutte le special move che tirano Lui recupera HP per 17 Raga funziona Funziona che è una meraviglia Il primo personaggio verde che vedo da non so quanto tempo Che entra Gohan Beast Non ho paura Finalmente Cioè dovrebbe essere lo standard Entra un blu e il verde è messo in vantaggio No solitamente no Con Gohan Beast i verdi venivano squagliati Tutti i precedenti Zenkai usciti prima di lui Venivano squagliati Ma lui no raga Lui resiste ai colpi come una vera roccia E risponde con i suoi pugni Raga che fanno parecchio male a conti fatti Perché ok i primi non fanno così male Ma poi è come se si setupasse Non so nemmeno io il perché Ma migliora col corso del match Quindi per me ripeto Personaggio promossissimo Un po' di cose strane sul fatto Ultimate che mette un meno 100% di recupero HP Ma non mi ha funzionato quando doveva Mentre quando non doveva funzionare L'ha messo a conti fatti Perché sull'ultimo Gohan giallo Che però aveva già esaurito la prima vita dell'Endurance Gliel'aveva messo Quindi non ho ben capito quella situazione lì Però probabilmente l'altro era immune E quello lì no Non chiedetemi il perché Sta di fatto raga Che mi sto ingarbugliando Di tempo ne ho ancora poco E a me Giren è piaciuto Ha reso bene secondo me Ditemi la vostra qua sotto nei commenti Avrei voluto un card draw speed Comunque lo sarebbe stato veramente un top player Raga un bacione a tutti Monto il video e me ne torno al lavoro Ciao